Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che hanno portato le migliori performance nell'ultimo periodo. Io sono Alessandro Danos, coach alla Unger Academy e in questo nuovo video andremo a vedere due strategie che di recente si sono ben comportate appunto sul mercato del Nasdaq, riuscendo a raggiungere profitti per 69 mila dollari a partire dal gennaio 2022. Se volete ricevere le regole di queste strategie basterà commentare qua sotto al video con la parola Nasdaq e nel più breve tempo possibile vi faremo avere i dettagli con le regole delle strategie. Adesso prima di iniziare vi invito a lasciarci un bel mi piace, iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Qui vediamo i risultati della prima strategia di cui parleremo è una strategia di tipo trend following che è stata sviluppata ormai tanti anni fa, più o meno nel 2018 e che negli anni successivi in cui è stata a mercato ha apportato dei risultati addirittura migliori di quelli visti nel periodo considerato per lo sviluppo. L'average trade di questa strategia è molto capiente, è una strategia di tipo multiday che quindi manterrà le posizioni aperte per più giorni e questo sicuramente aiuta a raggiungere dei livelli di average trade molto alti come il caso appunto di questa strategia dove vediamo un average trade di oltre 400 dollari. Questi sono risultati, lo ricordo, al netto di commissioni e slippage che sono già stati considerati, quindi ecco che questo risultato fa ancora più scalpore. Anche i risultati annuali del sistema, come dicevo poc'anzi, sono stati molto positivi. La strategia negli anni out of sample, quindi quelli post programmazione, si è comportata addirittura meglio rispetto agli anni precedenti. Tutti gli anni dal 2019 fino anche a quello in corso, il 2023, sono positivi con delle performance davvero sbalorditive se pensiamo che sono state raggiunte usando una size fissa di un contratto. Questa è una strategia che riesce a ottenere dei buoni trade nel momento in cui si scatena la volatilità su questo mercato. Come possiamo vedere è una strategia che attende dei movimenti verso il basso per poi entrare short oppure dei movimenti verso l'altro per poi entrare long. Insomma le classiche caratteristiche di una strategia trend following. Bene, quella che vediamo adesso seppur simile all'equity line precedente è un'altra equity line. La strategia in questione, la seconda che vedremo oggi, è intraday, quindi chiuderà le proprie posizioni entro la fine della sessione e anche in questo caso vediamo che una strategia che è stata sviluppata nel 2018 è riuscita a ottenere ottimi profitti soprattutto nel periodo post sviluppo. L'average trade in questo caso della strategia è nettamente inferiore rispetto alla strategia precedente ma si attesta comunque a oltre 110 dollari e questo è sicuramente un valore assolutamente plausibile per una strategia che appunto chiude le proprie posizioni al massimo entro la fine della sessione. Andando adesso a vedere i risultati annuali possiamo vedere che dal 2022 a oggi la strategia ha portato profitti per oltre 23 mila dollari, profitti che incrementano man mano che andiamo indietro perché anche il 2021 così come anche il 2020 e il 2019 sono poi stati anni assolutamente positivi come possiamo vedere da questa schermata. Questa strategia anch'essa è una strategia trend following come detto calcolata su un time frame a 15 minuti che tenta appunto di andare dietro a quello che è il trend di fondo del mercato. Vedete che a seguito di rialzi del sottostante la strategia prova a piazzare ordini di ingresso long come anche in quest'altro caso dove poi la strategia ha chiuso la propria posizione in take profit. In quest'ultima schermata vediamo le strategie insieme e possiamo vedere che dal primo gennaio 2022 fino al febbraio 2023 ovvero l'ultimo mese quello appena chiuso la strategia numero uno ha portato profitti già al netto delle commissioni per oltre 45 mila dollari mentre invece l'altra strategia correlata alla prima sempre dal primo gennaio 2022 fino al marzo 2023 ecco che ha portato 23 mila dollari per un totale di circa 69 mila dollari che sicuramente in circa un anno e una manciata di mesi due tre mesi quelli appena iniziati nel 2023 sono sicuramente dei risultati apprezzabilissimi e che speriamo continuino anche nel futuro. Ricordo quindi a tutti che se volete ricevere le regole di queste strategie vi basterà commentare qua sotto al video con la parola Nasdaq e nel più breve tempo possibile vi faremo avere una tabella contenente le info principali per riprodurre queste strategie. Se invece non avete l'esperienza necessaria ma volete imparare a creare da soli strategie di trading come quelle mostrate oggi cliccate sul link qui sotto e così facendo potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro bestseller coprendo solo le spese di spedizione oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciateci un like iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da restare sempre aggiornati. Alla prossima! Grazie a tutti!